Musica Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. Dopo 5 anni di attesa il mondo dei pubblici esercizi ha un nuovo contratto che interessa nel Vicentino circa 4.200 imprese per 11.000 lavoratori. La firma è arrivata venerdì 9 febbraio e porta con sé una novità importante. Questo è infatti il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei settori dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo. A siglare il contratto collettivo nazionale del lavoro che ha una durata di 4 anni è stata Fipe ConfCommercio assieme ad Angem e Legacop Produzione e Servizi che hanno raggiunto l'accordo con Filcams CGL, Fisascat CISL e Wiltux Will. È un passo importante, spiega Sergio Rebecca, presidente di ConfCommercio Vicenza, perché la federazione è stata promotrice di una proposta innovativa aggregando gli interessi di tutto il settore fuori casa. Si è così rafforzato il contratto nazionale del turismo evitando di fatto differenziazioni che potevano nuocere ad imprese e dipendenti. Questo contratto è dunque uno strumento di modernità e flessibilità che può aiutare anche la nostra provincia nel suo percorso di crescita dell'economia turistica, sempre più strategica nel contesto economico vicentino. Quest'anno, pur evidenziando che siamo coscienti delle difficoltà che le amministrazioni locali hanno in merito dei pochi trasferimenti che ricevono dallo Stato, abbiamo chiesto di fare una particolare azione, se lo riterranno opportuno, verso quelle dite che apriranno l'attività riaprendo dei negozi sfitti. La richiesta è quella di agevolare per tre anni, non facendo pagare tributi locali, a tutte quelle aziende che riaprono i negozi che risultano sfitti da almeno tre mesi. E questo riguarda i tributi che sono l'Imu, la Tasi, la Tari, l'imposta di pubblicità e la COSAP o TOSAP. È chiaro che il Confcommercio, oltre a essere sempre al fianco degli operatori del settore, è anche a disposizione delle amministrazioni comunali che vorranno maggiori delucidazioni in merito. È giusto evidenziare che a fronte della nostra richiesta, alcuni comuni della nostra provincia hanno richiesto ai nostri uffici una copia dei provvedimenti che questi altri comuni italiani stanno deliberando. A pochi giorni dalla firma delle modifiche al contratto integrativo territoriale del terziario, Confcommercio Vicenza mette in campo i propri esperti per illustrare alle oltre 11.000 imprese del commercio e dei servizi le novità introdotte. Lo fa con una serie di incontri sul territorio, sulle opportunità derivanti da welfare aziendale, su cui poggia ora l'integrativo. Si inizia lunedì 19 febbraio alle 14.30 nella sede mandamentale di Lonigo, per spostarsi poi il 20 febbraio alle 14 nella sede mandamentale di Marostica e ancora venerdì 23 febbraio nella sede Confcommercio di Arzignano. L'ultimo incontro in programma, mercoledì 28 febbraio alle 15, si terrà nella sede provinciale di Vicenza. Vicenza Agri, la più grande fiera del Vicentino dedicata alle macchine ed attrezzature agricole, il bosco e il giardino, sarà protagonista al Foro Buario di Vicenza, sabato 24 e domenica 25 febbraio dalle 9 alle 18.30 con ingresso gratuito. La manifestazione, che richiama ad ogni edizione oltre 10.000 visitatori da tutto il Veneto, giunge quest'anno alla 19.00 edizione e ha saputo ricavarsi un ruolo ben preciso di ritrovo di inizio stagione per tutti coloro che si occupano di agricoltura, giardinaggio. Vicenza Agri è anche l'evento di punta dell'Associazione Provinciale Macchine e Attrezzi Agricoli e Boschivi della Confcommercio di Vicenza, che ne cura l'organizzazione con il patrocinio del Comune di Vicenza e la collaborazione dell'ARAV, l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, per arricchire il programma degli eventi. Sentiamo qualche anticipazione da Sergio Bassan, consigliere dell'Associazione Provinciale Macchine e Attrezzi Agricoli e Boschivi di Confcommercio Vicenza. La parte principale, la parte del Leone, la fanno sempre le macchine grosse, logicamente anche dal punto di vista estetico ed empatico, però è una rassegna importante anche per il giardinaggio, per il verde pubblico, quindi chiunque abbia un giardino può essere interessato a venire a vedere questa manifestazione. La specializzazione, la professionalità su questo campo è sicuramente in aumento negli ultimi anni, viene dedicata molta attenzione anche alla coltivazione del verde, sia quello privato che quello pubblico. Quest'anno la collaborazione con l'Associazione Allevatori funziona da anni, è sempre stata una parte importante della fiera. Quest'anno si sono impegnati molto, stanno creando una rivalutazione, una valutazione molto importante, dei prodotti caseari del Veneto che sono assolutamente di eccellenza. Quindi vedremo una cosa in più, secondo me, che renderà ancora più interessante e professionale questa manifestazione. I sistemi a guida satellitare, che non sono una cosa che semplicemente guida in linea retta il trattore, accompagna i driver che c'è sulla macchina, ma sono un modo nuovo di gestire l'agricoltura, un modo nuovo di mappare i terreni, un modo nuovo di riconcimare a seconda delle rese in maniera assolutamente precisa la parte del terreno che ha avuto più o meno resa, una parte straordinaria, secondo me, anche per l'ambiente, per non sprecare concimi, non sprecare diserbi, buttarli nei fossi, in quanto la guida satellitare consente una precisione assoluta nella distribuzione, quindi un risparmio dei mezzi tecnici che possono anche avere un impatto negativo sull'ambiente e un aumento delle rese. Ci sono dei sistemi adesso che misurano la struttura organolettica del terreno e in base a questo si può pensare a che tipo di colture e a come farle. Tutte le informazioni su Vicenza Agri 2018 e l'elenco degli espositori sono consultabili sul sito internet della manifestazione. Ultimi posti a disposizione per il corso di formazione per l'abilitazione alla somministrazione e alla vendita di prodotti alimentari, ex corso REC, che inizia lunedì 26 febbraio prossimo al centro formazione ESAC Confcommercio di Vicenza. In tutto 120 ore, collezioni il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 19 alle 23, dal 26 febbraio sino al 10 maggio. Il corso è rivolto a quanti intendono avviare o gestire attività nel settore della ristorazione come ristoranti, bar, pizzeria, alberghi con bar e ristoranti aperti al pubblico o un'attività di commercio nel settore alimentare. Gli interessati devono infatti documentare direttamente al Comune il possesso dei requisiti personali, morali e professionali richiesti dalla legge regionale numero 29 2007, disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Oltre all'abilitazione alla professione, il corso mira a formare operatori impegnati nel corretto svolgimento dell'attività commerciale, secondo le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e dell'informazione ai consumatori. Al termine del corso, al fine di conseguire l'abilitazione, è previsto il superamento di un esame. Info e iscrizioni allo 0444 96 43 00. Ed ora altre proposte formative. Dal 26 febbraio al 19 marzo, quattro incontri matutini per apprendere l'inglese per gli addetti alla vendita, con le regole grammaticali di base, la conversazione, le espressioni idiomatiche di utilità per il punto vendita. L'Università del Gusto propone invece dal 27 febbraio al 22 marzo otto lezioni serali dedicate alle tecniche di barman base. Si tratta di un corso pratico con degustazioni di cocktail, drink, miscelazione americana, aperitivi classici, merceologia e distillati. Infine, il 28 febbraio, il corso è il piatto unico nella ristorazione, con accostamenti di idee innovative per realizzare piatti unici, salutari e di grande impatto estetico. Ed ora l'agenda. Lunedì alle 10 convegno Cupla come invecchiare bene e in salute. Alle 12.30 consiglio dell'Associazione Provinciali Agenti Immobiliari d'Affari e Mediazione. Alle 13.00 riunione dei presidenti delle delegazioni comunali del mandamento di Vicenza Nord e Ovest. Alle 14.30 all'incontro il welfare entra nel contratto integrativo del terziario. Alle 20 consiglio della delegazione comunale di Brendola e alle 20.45 consiglio della delegazione comunale di Caldonio. Martedì alle 9 apertura delle collezioni art dalla 20 al 22 febbraio. Alle 14.00 incontro il welfare entra nel contratto integrativo del terziario. Alle 20.30 incontro il welfare aziendale e opportunità per i negozi. Mercoledì alle 9 consiglio Associazione Provinciali Grossisti e Prodotti Petroliferi. Alle 13 consiglio dell'Associazione Provinciale Dettaglianti e Alimentaristi. Alle 20.30 consiglio dell'Associazione Provinciale Ottici e Optometristi. Giovedì alle 20 consiglio della sezione territoriale 1 di Vicenza. Venerdì alle 9.30 consiglio Asso Green. Alle 14 incontro il welfare entra nel contratto integrativo terziario. Alle 17 incontro i social per le agenzie immobiliari. Sabato alle 9 apertura di Vicenza Agri 2018. E per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento come sempre la domenica prossima. Una rivederci e buonissima settimana. Grazie a tutti.